Avvertimento Questo racconto fu scritto nell'inverno del 1830, in luogo distante da Parigi 300 leghe. Molti anni prima, quando i nostri eserciti scorrazzavano l'Europa, il caso mi pose in mano un biglietto d'alloggio per la casa d'un canonico. Sera a Padova, fortunata città in cui, come a Venezia, godersi la vita è la prima e maggior occupazione e non lascia tempo a sdegnarsi di vicinanze fastidiose. Il mio soggiorno si prolungò e il canonico ed io diventammo buoni amici. Verso la fine del 1830, ripassando per Padova, corsi alla casa del buon canonico. Era morto, e lo sapevo, ma desideravo rivedere il salotto dove avevo passato tante gradevoli serate, così spesso rimpiante. Vi trovai un suo nipote e la moglie, i quali mi accolsero come un vecchio amico. Altri vennero e ci si separò molto tardi. Il nipote del canonico fece portare dal caffè Pedrocchi un ottimo zabaglione, ma quel che soprattutto ci tenne desti fu la storia della duchessa San Severina, alla quale, avendo un de' presente accennato, il padrone di casa si compiacque di raccontarla tutta intiera per me. Nel paese dove vado, dissi agli amici, non troverò certamente una casa come questa, e per passarle lunghe serate scriverò una novella sulla vostra simpatica duchessa, e farò come il vostro vecchio bandello, vescovo di Agen, al quale sarebbe parso una colpa il trascurare i particolari veri delle sue storie o l'aggiungervene di nuovi. Quando è così, soggiunse il nipote, io vi presterò gli annali di mio zio, che alla parola Parma raccontano parecchi intrighi di quella corte, quando la San Severina vi spadroneggiava, ma badate, è storia tutt'altro che morale, e ora che in Francia ve è entrato l'uzzolo della purità evangelica, c'è il caso che narrandola vi acquistiate la peggiore delle nomee. Pubblico questo racconto senza mutare nulla al manoscritto del 1830, il che può produrre due inconvenienti, il primo per il lettore, i personaggi italiani probabilmente lo interesseranno meno, i cuori italiani sono molto diversi dai francesi, gli italiani sono schietti, bonaccioni, e quando non sospettosi o impauriti dicono ciò che pensano, la vanità non la provano che per accessi, e allora diventa passione e si chiama puntiglio. Infine, la povertà non è fra loro ridicola, Il secondo inconveniente è per l'autore. Confesso che ha osato lasciare ai personaggi le asperità dei loro caratteri, ma per compenso lo dichiaro altamente, rovescio il biasimo della morale più rigida su gran parte delle loro azioni. A che scopo attribuir loro la moralità superiore e le grazie del carattere francese? I francesi amano sopra ogni cosa il denaro, e non si lasciano trascinare al peccato né dall'odio né dall'amore. Gli italiani di questo racconto sono assai differenti. D'altra parte mi sembra che, come procedendo dal mezzogiorno al settentrione, ogni 200 leghe il paesaggio muta di natura e di aspetti, così anche il romanzo ha da diversificare. La gentile nipote del canonico, che conobbe e molto amò la duchessa Sanseverina, mi prega di non cangiar sillaba alle sue avventure veramente biasimevoli. 23 gennaio 1839 Capitolo I Milano nel 1796 Il 15 maggio 1796 il general Bonaparte entrò a Milano alla testa del giovine esercito che aveva varcato il ponte di Lodi e mostrato al mondo come dopo tanti secoli Cesare e Alessandro avessero un successore. I miracoli d'ardimento e d'ingegno, che l'Italia vide compiersi in pochi mesi, risvegliarono un popolo addormentato. Otto giorni avanti che i francesi giungessero, i milanesi li credevano una cozzaglia di briganti usi a scappar di fronte alle truppe di sua maestà imperiale e reale, che questo diceva e ripeteva tre volte la settimana un giornalucolo grande come il palmo della mano e stampato su una sudicia carta. Nel Medioevo i milanesi furono pro di quanto i francesi della Rivoluzione e meritarono di vedere la loro città rasa al suolo dagli imperatori tedeschi. Da quando divennero sudditi fedeli, loro cura suprema era lo stampar sonetti su pezzoline di taftà rosa per celebrare le nozze di qualche fanciulla nobile o ricca, la quale fanciulla, due o tre anni dopo quel gran giorno della sua vita, si prendeva un cavalier servente. Qualche volta il nome del cicisbeo, scelto dalla famiglia del marito, era perfino onorevolmente registrato nel contratto di matrimonio. Che differenza tra questi costumi effeminati e le commozioni profonde suscitate dal giungere impreveduto dell'esercito francese. Costumi nuovi non tardarono a sorgere, passioni nuove a manifestarsi, e tutto un popolo, il 15 maggio 1796, si accorse che quanto aveva fino allora circondato del suo rispetto era sovranamente ridicolo, odioso talora. La partenza dell'ultimo reggimento austriaco segnò la rovina delle vecchie idee. L'esporre la vita venne di moda, e si fu persuasi che per essere felici, dopo secoli di ipocrisia e di scipitaggine, era necessario amar qualche cosa con passione vera, e sapere, al caso, sfidare la morte. La continuazione del geloso dispotismo di Carlo V e di Filippo II aveva come sommersi i lombardi in tenebre profonde. Rovesciate le loro statue, si sentirono a un tratto inondati di luce. Da una cinquantina d'anni, e via via che il Voltaire e l'enciclopedia sfolgoravano in Francia, al buon popolo di Milano, i frati andavano strillando che imparare a leggere, o imparare una cosa qualsiasi, era fatica inutile. Che, a pagare regolarmente le decime al curato, e a raccontargli coscienziosamente tutti i propri peccatucci, si era appressa poco sicuri da avere un buon posto in paradiso. A finir poi di prostrare questo popolo già così animoso, l'Austria gli aveva venduto a buon mercato il privilegio di non fornir reclute al suo esercito. Nel 1796 24 cialtroni vestiti di rosso costituivano la forza armata della città di Milano e con quattro magnifici reggimenti ungheresi presidiavano la città. La licenza era estrema, le passioni assai rare. Oltre a liberarsi dall'obbligo fastidioso di raccontare i fatti propri ai curati, desideri assillanti i milanesi del 1796 non ne avevano. Rimanevano ancora certi impacci monarchici e un tantino vessatori. Per esempio l'arciduca residente in Milano, che governava in nome dell'imperatore suo cugino, aveva avuto la proficua idea di far commercio di granaglie. Quindi divieto ai contadini di venderle loro finché fossero pieni i magazzini di sua altezza imperiale. Nel maggio 1796, tre giorni dopo l'ingresso dei francesi, un giovine pittore di miniature, un po' matto, e il cui nome, Grosse, fu celebre più tardi, udita raccontare al gran caffè dei servi, allora di moda, la gloriosa impresa dell'arciduca, che era un colosso, disegnò sul rovescio del listino dei gelati, stampato in brutta carta gialla, questo schizzo. Un soldato francese con una baionetta forava la pancia del grosso principe, dalla quale, invece di sangue, usciva un'enorme quantità di grano. Quel che noi diciamo schizzo o caricatura era ignoto in quel paese di dispotismo vigile e astuto. Il disegno lasciato dal Grosse su un tavolino del caffè dei servi parve un miracolo piovuto dal cielo. La stessa notte fu inciso e il giorno dopo se ne venderono ventimila esemplari. Il giorno stesso, con editto affisso nei luoghi pubblici, si imponeva una contribuzione di guerra di sei milioni da sopperire ai bisogni dell'esercito francese, il quale, dopo aver vinto sei battaglie e conquistato venti province, non difettava più che di calzone, di scarpe, di abiti e di cappelli. Tale contentezza irruppe nella Lombardia, tale letizia vi diffusero quegli spiantati francesi che soli i preti e alcuni nobili si accorsero della gravezza della contribuzione di sei milioni, presto seguita da parecchie altre. Quei soldati ridevano e cantavano tutto il giorno, avevano meno di venticinque anni e il generale in capo, che ne aveva ventisette, passava per il più vecchio dell'esercito. E tanta gaiezza, tanta giovinezza, tanta spensieratezza, parevano rispondere sollazievolmente alle furibonde predicazioni dei frati che durante sei mesi avevano dai pulpiti dipinto i francesi quali mostri, obbligati sotto pena di morte a incendiare tutto che si parasse loro dinanzi e a tagliar teste quante più potessero. Per il quale esercizio ogni reggimento marciava con in avanguardia una ghigliottina. Per le campagne si vedevano sulle porte delle stamberghe soldati francesi occupati a cullare i bimbi delle contadine e quasi ogni sera qualche tamburino, strimpellando un violino, improvvisava un balletto. e poiché le contraddanze parevano troppo complicate, affinché i soldati che del resto non le sapevano potessero insegnarle alle campagnole, provvedevano questi a insegnare ai francesi la monferrina, il salterello e altri balli italiani. Gli ufficiali che erano stati fin dove s'era patuto alloggiati nelle case dei ricchi avevano urgente bisogno di riaversi. Per citare un esempio un tenente di nome Roberto ebbe un biglietto di alloggio per il palazzo della Marchesa del Dongo. Questo ufficiale giovine requisizionario assai svelto quando entrò nel palazzo possedeva per tutta ricchezza uno scudo da sei franchi riscosso a Piacenza. Dopo il passaggio del ponte di Lodi tolse a un bell'ufficiale austriaco ucciso da una palla di cannone un magnifico paio di calzoni di nanchino novissimo e non mai indumento venne il momento meglio opportuno. Le sue spalline erano di lana e il panno della giubba cucito alle fodere perché gli sbrendoli stessero insieme ma c'era di peggio le suole delle sue scarpe erano fatte coi pezzi di un cappello preso anche questo sul campo di battaglia di là dal ponte di Lodi e queste suole improvvisate aderivano alle tomaie con degli spaghi assai visibili cosicché quando il maggiordomo si presentò nella camera del tenente per invitarlo a pranzare con la signora Marchesa questi si trovò in un impiccio addirittura terribile il suo attendente e lui passaron le due ore che li separavano dal pranzo fatale nel tentare di ricucire un po' la giubba e attinger di nero con l'inchiostro i malaugurati spaghi delle scarpe infine infine giunse pure il momento tremendo io non mi sono mai trovato più a disagio mi confessava più tardi il tenente Roberto le signore si immaginavano che io fossi uomo da incuter terrore col solo mostrarmi e io tremavo più di loro guardavo le mie scarpe non riuscivo a camminare con garbo la Marchesa del Dongo aggiunse era allora in tutto lo splendore della sua bellezza voi l'avete conosciuta con quegli occhi così belli ed una dolcezza angelica con quei bei capelli d'un biondo scuro che danno così bene rilievo all'ovale del volto incantevole io avevo nella mia camera un erodiade di Leonardo da Vinci che era tutto il suo ritratto come Dio volle fui così colpito da quella bellezza soprannaturale che non pensai più al mio abbigliamento da due anni non vedevo che cose brutte e miserabili per le montagne del Genovesato osai dirle qualche parola sul mio incantamento ma avevo ancora abbastanza buonsenso per non durare a lungo in complimenti pur cercando di elaborare belle frasi vedevo in una sala da pranzo tutta incrostata di marmi dodici lacchè e camerieri in una tenuta che mi parve allora il colmo della magnificenza figuratevi che quei marioli non soltanto avevano delle buone scarpe ma anche delle fibbie d'argento con la coda dell'occhio sbirciavo con gli sguardi stupidi fissi sulla mia giubba e forse anche sulle mie scarpe e questo non mi andava giù avrei potuto con una parola sola farli sudare freddo ma come metterli a posto senza rischiare di sgomentare anche le signore perché la marchesa per farsi un po' animo come ella mi disse tante volte di poi aveva mandato a prendere in convento dove allora era educanda gina del dongo sorella di suo marito che fu più tardi la graziosissima contessa pietra nera nessuno ne superò ai suoi bei tempi la gaiezza e l'arguzia amabile come nessuno pareggiò il suo coraggio e la serenità nell'avversa fortuna gina che poteva allora aver tredici anni ma ne mostrava diciotto vivace e franca come voi la conoscete aveva tale paura di scoppiare in una risata a guardarmi e vedermi in quell'arnese che non osava mangiare la marchesa all'opposto mi opprimeva di cortesie un po' forzate scorgeva certo nei miei occhi qualche segno di impazienza insomma io facevo una stupida figura e mi rodevo lo scherno cosa che dicono impossibile a un francese finalmente un'idea scese dal cielo a illuminarmi mi misi a raccontare alle signore le mie miserie e quel che avevamo sofferto da due anni su per le montagne genovesi dove ci trattenevano dei vecchi generali imbecilli ci distribuivano dissi degli assegnati che non avevano corso nel paese e tre once di pane al giorno non avevo parlato due minuti che la buona marchesa aveva le lacrime agli occhi e la gina s'era fatta seria come signor tenente mi domandò tre once di pane soltanto sì signorina ma per compenso la distribuzione mancava tre volte la settimana e siccome i contadini presso i quali alloggiavamo erano anche più disgraziati di noi davamo loro un po' della nostra razione alzati da tavola offrì il braccio alla marchesa fino alla porta della sala poi tornando addietro rapidamente diedi al domestico che mi aveva servito a tavola quell'unico scudo che era stato fondamento ai miei molti castelli in aria otto giorni più tardi continuò Roberto quando fu bene accertato che i francesi non ghigliottinavano nessuno il marchese del dongo tornò alla sua villa di grianta sul lago di como dove eroicamente si era rifugiato all'appressare dell'esercito abbandonando alle sorti della guerra la leggiadra e giovine moglie e la sorella l'odio che questo marchese aveva per noi era uguale alla sua paura così incommensurabile e quando voleva dimostrarsi meco cortese era divertentissimo ammirare la sua facciona pallida di bigotto il giorno dopo il suo ritorno a Milano io ricevei tre canne di stoffa e duecento franchi sulla contribuzione dei sei milioni mi rimpannucciai e divenni il cavaliere delle signore poiché i balli incominciarono la storia del tenente Roberto fu a un di presso quella di tutti i francesi invece di schernir la miseria di quei bravi soldati ne ebbero compassione e li amarono questo periodo di gioia imprevista e debbrezza non durò che un paio d'anni la follia fu in quel tempo così generale e di tale eccesso che io non saprei darmene ragione se non per una considerazione storica e profonda sull'anima di questo popolo gravavano cento anni di noia la volutà naturale nei paesi meridionali aveva regnato un tempo nella corte dei visconti e degli sforza ma dal 1624 da quando cioè gli spagnoli si erano impadroniti di Milano e impadroniti da padroni taciturni sospettosi superbiosi sempre paurosi di rivolte la gaiezza disparve e i popoli assue facendosi ai costumi dei loro padroni pensaron più a vendicare con una pugnalata il meno moltraggio che a goder dell'ora fuggente la pazza gioia l'allegria la volutà l'oblio di tutti i sentimenti tristi o appena ragionevoli giunsero a tale punto dal 15 maggio 1796 che i francesi entrarono a Milano all'aprile 1799 quando in conseguenza della battaglia di Cassano ne furono cacciati che si ha memoria di vecchi mercanti milionari di vecchi strozzini di vecchi notai i quali durante questo periodo dimenticarono di seccare il prossimo e di guadagnare quattrini come eccezione si potrebbero al più citare alcune famiglie dell'aristocrazia che si ritirarono nelle loro ville come per tenere il broncio contro la generale allegria e l'aprirsi dei cuori vero è bensì che queste famiglie nobili e ricche erano state distinte increscevolmente nella ripartizione del contributo di guerra il marchese del dongo irritato da tutta quella gaiezza era stato un dei primi a tornarne la sua magnifica villa di grianta di là da como dove le signore condussero il tenente roberto la villa in una posizione forse unica al mondo a 150 piedi sopra quel lago meraviglioso di cui dominava gran parte fu un tempo fortezza la famiglia del dongo la fece costruire nel quindicesimo secolo come attestavano dappertutto stemmi marmorei e vi si vedevano ancora ponti levatoi e fossati profondi per vero dire senza acqua con le sue mura alte 80 piedi e larghe 6 il castello era sicuro da colpi di mano e perciò carissimo al sospettoso marchese fra 25 o 30 domestici che gli supponeva secondo ogni apparenza devoti perché non rivolgeva loro mai la parola senza trattarli male si sentiva meno che a milano tormentato dall'apprensione apprensione non tutta affatto gratuita egli stava in attivissima corrispondenza con una spia che l'austria aveva collocata a tre leghe da grianta nell'intento di procurare l'evasione dei prigionieri fatti sul campo di battaglia cosa che avrebbe potuto essere presa in assai malaparte dei generali francesi il marchese aveva lasciato a milano la moglie che sbrigava gli affari di famiglia ed era incaricata di far fronte alle contribuzioni imposte alla casa del dongo e perché essa cercava ad ottenere riduzioni e falcidie era costretta a vedere nobili che avevano accettati uffici pubblici e anche non nobili i quali avevano commesso al dirsi voce in capitolo ora un grande fatto avvenne nella famiglia il marchese aveva combinato il matrimonio della sua giovine sorella gina con un personaggio assai ricco e d'alti natali ma questi si incipriava e gina la quale ogni volta che lo riceveva dava in uno scoppio di risa fece poco dopo la pazzia di sposare il conte di pietra nera buon gentiluomo veramente e anche bello ma di famiglia che andava in rovina di padre in figlio e per colmo di sciagura ardente partigiano delle nuove idee pietra nera era sottotenente nella legione italiana e questo accresceva la disperazione del marchese scorsi i due anni di gioia pazzesca il direttorio della repubblica dandosi a parigi le arie di sovrano molto sicuramente assiso sul proprio trono si rivelò accanito odiatore di quanto non fosse mediocre i generali netti che sommandò all'esercito d'italia perderono una serie di battaglie su quelle medesime pianure del veronese che due anni avanti avevano visto i prodigi d'arcole e di lonato gli austriaci si avvicinarono a milano e il tenente roberto maggiore di battaglione e ferito a cassano venne per l'ultima volta ad alloggiare in casa della sua buona amica la marchesa del dongo gli addii furono tristi roberto partì col conte pietra nera che si accompagnava ai francesi nella ritirata su novi e la contessa alla quale il fratello aveva ricusato di pagarla legittima seguì le truppe su una carrettella cominciò allora quella reazione quel ritorno alle vecchie idee che a milano chiamarono i tredici mesi perché fortunatamente per loro questo ricorso di scemenza non durò che tredici mesi fino a Marengo tutti vecchi bigotti brontoloni riapparvero e ripresero a dirigere e guidare le cose pubbliche e il viver civile ne andò molto che i fedeli alle buone dottrine fecero spargere nei villaggi la voce che in Napoleone era stato impiccato dai mammalucchi in Egitto come meritava per una infinità di ragioni fra quelli che erano andati a tener broncio nelle loro campagne e che tornavano sitibondi di vendetta il marchese del dongo si faceva notare per il suo furore e le sue stesse esagerazioni lo misero a capo del partito quei signori bravi galantuomini quando non avevano paura ma che tremavano sempre riuscirono a circuire il generale austriaco il quale in buona fede si lasciò persuadere che l'accorgimento politico consigliava rigori e fece arrestarci a 50 patriotti tutto quel che c'era di meglio allora in Italia li deportarono alle bocche di Cattaro e gittati in sotterranei l'umidità e soprattutto la mancanza di pane fecero sollecita e buona giustizia di quei bricconi il marchese del dongo ebbe un altissimo ufficio e come egli a tant'altre belle doti aggiungeva un'avarizia sordida si vantò in pubblico di non mandare uno scudo a sua sorella la contessa Pietranera la quale sempre innamoratissima dello sposo non volle abbandonarlo e stava per morire di fame in Francia con lui la buona marchesa era alla disperazione finalmente le riuscì di carpire qualche piccolo diamante dallo scrigno che il marito le ritoglieva ogni sera per chiuderlo in una cassa di ferro che teneva sotto il letto dal quale signor marito cui aveva portato in dote 800.000 franchi la marchesa riceveva 80 lire al mese per lo spillatico nei 13 mesi durante i quali i francesi rimasero fuori di Milano questa donna timidissima trovò pretesti per non vestir mai che di nero e qui confesseremo che seguendo l'esempio di molti gravissimi autori abbiamo cominciato la storia del nostro eroe fin dall'anno avanti la sua nascita infatti questo essenzialissimo personaggio non è che Fabrizio Valserra marchesino del dongo il quale appunto si pose il fastidio di venire al mondo quando i francesi furono cacciati e si trovò ad essere il secondo genito di quel marchese del dongo gran signore del quale voi conoscete già la faccia livida il sorriso falso e l'odio implacabile per le nuove idee tutto il patrimonio della famiglia andava per l'istituzione di un maiorascato al primo genito Ascanio del dongo ritratto preciso di suo padre egli aveva otto anni e Fabrizio II quando improvvisamente quel general Bonaparte che tutte le persone ben nate credevano impiccato da un pezzo scese dal San Bernardo ed entrò a Milano e fu anche questo un momento unico nella storia figuratevi tutto un popolo innamorato matto pochi giorni dopo Napoleone vinse a Marengo inutile raccontare il resto l'entusiasmo dei milanesi giunse al sommo ma questa volta misto a confusi propositi di vendetta a questo buon popolo avevano insegnato a odiare di lì a poco si videro tornare i superstiti tra i deportati alle bocche di Cattaro e il loro ritorno fu celebrato con una festa nazionale quei volti pallidi i grandi occhi sbigottiti ancora i corpi smagriti facevano un singolare contrasto con la gioia prorompente da ogni parte e il loro arrivo dette il segnale di partenza ai già compromessi il marchese del Dongo fu dei primi a rifugiarsi nel suo castello di Grianta i capi delle grandi famiglie erano saturi d'odio e di terrore ma le mogli le figlie rammentavano le allegrie del primo soggiorno dei francesi e rimpiangevano Milano e i balli divertentissimi che subito dopo Marengo ricominciarono nella casa Tanzi pochi giorni dopo la vittoria il generale cui era affidato il mantenimento dell'ordine nella Lombardia si accorse che i fittavoli delle tenute nobilesche tutte le donniciuole della campagna ben lungi dal pensare a quella mirabile vittoria di Marengo che aveva mutati i destini d'Italia e riconquistate tredici piazze forti in un giorno avevano le menti prese da una profezia di San Giovita il patrono di Brescia secondo la quale le fortune francesi e napoleoniche sarebbero finite appunto tredici settimane dopo Marengo ciò scusa un po' il marchese del Dongo e i nobili scappati a protestare in campagna perché realmente credevano al vaticinio erano gente che non avevano letto in vita loro quattro volumi e facevano preparativi per tornare a Milano trascorse appena le tredici settimane ma più tempo passava più prosperavano le fortune francesi Napoleone con saggi provvedimenti salvava in Francia la rivoluzione come l'aveva salvata contro l'Europa a Marengo e i nobili lombardi al sicuro nelle loro ville s'accorsero che di primo acchito avevano male interpretato le predizioni del santo patrono di Brescia non di tredici settimane si trattava ma di tredici mesi i tredici mesi passarono e le fortune di Francia crebbero di giorno in giorno parliamo rapidamente dei dieci anni di progressi e di prosperità che corsero dal 1800 al 1810 Fabrizio passò i primi a Grianta dando e ricevendo una gran quantità di pugni fra gli sbarazzinelli del villaggio e non imparando nulla affatto neppure a leggere il marchese padre volle che gli insegnassero il latino non già sugli antichi autori il quale non fa anche parlare di repubbliche ma su un magnifico volume ornato di più di cento incisioni capolavoro d'artisti del secolo decimo settimo la genealogia dei Val Serra Marchesi del Dongo pubblicata nel 1650 da Fabrizio del Dongo arcivescovo di Parma e poiché le fortune i Val Serra se le erano fatte sotto le armi le incisioni rappresentavano il più spesso battaglie nelle quali sempre qualche eroe della casata era raffigurato che menava giù a tutto spiano il libro piaceva molto al piccolo Fabrizio sua madre che l'adorava otteneva di tanto in tanto il permesso di venire a vederlo a Milano ma siccome il Marchese non le dava mai i denari necessari per il viaggio glieli prestava la cognata Contessa Pietranera divenuta una delle donne più amabili e più ammirate fra quante rallegravano la corte del Principe Eugenio vicere d'Italia quando Fabrizio ebbe fatta la prima comunione la contessa ottenne dal Marchese tuttavia esule volontario il permesso di farlo di tanto in tanto uscire di collegio lo trovò originale spiritoso serio bel ragazzo tale insomma da non sfigurar nel salotto di una signora alla moda ma ignorante quanto si può dire e capace di scrivere a malapena la contessa che era entusiasta per indole e che tutto con entusiasmo faceva che che facesse promise la sua protezione al direttore del collegio se Fabrizio con rapidi progressi stupefacenti ottenesse alla fine dell'anno scolastico molti premi per dargli modo di meritarseli lo mandava a pigliar tutti sabato sera e spesso non lo rimandava ai suoi professori che il mercoledì o il giovedì i gesuiti quantunque svisceratamente cari al principe vicere erano dalle leggi del regno espulsi dall'Italia il superiore del collegio capì subito che vantaggi avrebbe potuto trarre dalle relazioni con una donna onnipotente alla corte non pensò neppure a dolersi delle assenze di Fabrizio che più ignorante che mai ebbe cinque primi premi a questo patto la brillante contessa pietra nera col marito generale comandante una divisione della guardia e cinque o sei alti dignitari della corte del vicere venne ad assistere alla distribuzione dei premi nelle scuole della compagnia di Gesù il rettore ebbe da propri superiori un encomio la contessa si menava dietro il nipote a tutte le feste per il cui splendore andò famoso il troppo breve governo del principe Eugenio la vea di sua autorità promosso ufficiale degli Usseri e Fabrizio a dodici anni vestiva quella divisa un giorno innamorata del suo bel portamento chiese per il nipote un posto di paggio il che avrebbe significato che i del dongo faceva nato d'adesione al governo ma il giorno dopo le fu necessario tutto il credito di cui godeva per ottenere che il vicere dimenticasse la domanda alla quale mancava niente meno che il consenso del padre del candidato consenso che sarebbe stato indubbiamente e clamorosamente negato in seguito a quella spensieratezza che lo fece fremere l'imbronciato marchese trovò un pretesto per richiamare il piccolo Fabrizio a Grianta la contessa aveva un sommo disprezzo per suo fratello lo considerava come un triste imbecille che sarebbe anche stato malvagio se lo avesse potuto ma era innamorata del ragazzo e dopo dieci anni di silenzio scrisse a suo fratello per ridomandargli mandargli il nepote la lettera non ebbe risposta tornato nel formidabile castello costruito dal più bellicoso dei suoi antenati Fabrizio non sapeva altro al mondo che far l'esercizio e cavalcare spesso il conte Pietranera non meno di sua moglie innamorato di lui lo faceva montare in sella e se lo portava alle riviste nel castello di Grianta dove arrivò con gli occhi rossi ancora dalle lacrime versate nell'abbandonare i bei salotti di sua zia Fabrizio non trovò che le tenere carezze di sua madre e delle sorelle il marchese era chiuso nel suo studio col primo genito marchesino Ascanio vi fabbricavano lettere cifrate che avevano l'onore di essermandate a Vienna padre e figlio non comparivano che allora dei pasti il marchese ripeteva con ostentazione che egli insegnava al suo erede naturale a tenere il conto in partita doppia delle vendite di ciascuna delle sue terre ma in verità egli era troppo geloso della propria autorità per parlare di queste faccende col figliuolo erede necessario di tutto il patrimonio fide commissario e lo occupava invece a tradurre in cifra di spacci di 15 o 20 pagine che due o tre volte per settimana mandava in Svizzera donde le spedivano a Vienna il marchese presumeva di far così conoscere ai sovrani regittimi le vere condizioni del regno d'Italia che neppur lui conosceva e tuttavia le sue lettere avevano a Vienna grande fortuna il marchese quando reggimenti francesi o italiani cambiavano guarnigione incaricava qualche agente fidato di porsi sulla strada maestra a contare di quanti soldati si componevano coi reggimenti nel dar poi conto del fatto alla corte di Vienna aveva cura di diminuire di un quarto abbondante il numero di quei soldati queste lettere abbastanza ridicole avevano il grande merito di sventirne altre più veritiere e perciò erano gradite ancora poco avanti che Fabrizio giungesse il marchese aveva ricevuto le insegne di un famoso ordine cavalleresco il quinto che decorava la sua uniforme di ciambellano veramente provava rammarico non osando di mettere in mostra quell'uniforme fuori del suo studio ma non si sarebbe fatto lecito di dettare un dispaccio senza avere infilato la bella giubba ricamata e ornata da tutte le decorazioni gli sarebbe parso mancar di rispetto regolandosi altrimenti la marchesa rimase colpita della leggendria e della garbatezza di quel suo figliuolo ma aveva conservato l'abitudine di scrivere due o tre volte l'anno al generale conte da nome attuale del tenente roberto non sapeva mentire con le persone cui era affezionata interrogò il ragazzo e fu spaventata da tanta ignoranza se pare poco istruito a me che non so nulla diceva fra sé roberto che è così dotto giudicherà la sua educazione completamente fallita e a giorni che corrono qualche merito bisogna farselo un altro particolare che la sbigottì pure fu che fabrizio prendeva sul serio tutto ciò che in materia di religione gli avevano insegnato i gesuiti quantunque molto pia il fanatismo di quel ragazzo la faceva fremere se il marchese se ne accorge e considera quante influenza può esercitare per questa via sull'animo di fabrizio arriva a togliermene l'affetto pianse molto e il suo amore per fabrizio si fece più forte la vita del castello popolato di 30 o 40 domestici era assai triste così fabrizio passava le giornate a caccia o a remare in barca per il lago ne tardò molto ad accontarsi coi cocchieri e i mozzi di stalla tutti erano fautori dei francesi e si burlavano allegramente dei camerieri bigotti devoti al marchese e al primogenito argomento delle facezie contro questi solenni personaggi era la cipria che si portavano grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.